A pochi chilometri dalle principali arterie autostradali e dall'aeroporto di Torino-Caselle operano le officine meccaniche Cresto. Fondate nel 1960 per iniziativa di Lodovico Cresto, hanno da sempre orientato la loro produzione sulla qualità del prodotto, affermandosi negli anni e diventando leader nel proprio settore al fianco delle più grandi industrie di automotive europee. Le officine meccaniche Cresto sono in grado di unire alta produttività ed estrema flessibilità nelle lavorazioni e perseguono con forza un rapporto di collaborazione improntato sulla soddisfazione delle richieste della clientela. Nata come azienda produttrice di ricambi dello sterzo e sospensioni nel settore automobilistico, le officine meccaniche Cresto hanno oggi una significativa presenza anche nel primo impianto di prestigiose autovetture e nel settore agricolo, industriale e movimento terra. La qualità della lavorazione viene seguita in ogni sua fase, dalla scelta della materia prima fino al collaudo finale, seguendo quelle che sono le richieste delle norme vigenti. La certificazione di qualità UNI EN ISO 9002, ottenuta nel 1994, ha rappresentato il punto di partenza per impostare una rigorosa metodologia di lavoro che si basa sull'attenzione alle tolleranze richieste dai clienti, sia sui pezzi che nei tempi di consegna. Grazie a tale metodologia, le officine meccaniche Cresto sono giunte negli anni all'ottenimento delle prestigiose certificazioni ISO 9001-2000, ISO TS 16949-2002 e ISO 14001-2004. La forza dell'azienda è quella di offrire al cliente un processo completo, produzione e assemblaggio uniti ad una distribuzione in tutto il mondo, con l'esperienza di chi fa questo lavoro da quasi 50 anni. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Officine meccaniche Cresto Qualità ed affidabilità al servizio della componentistica per autoveicoli